Giovanni Battista Beccaria, attualità di uno scienziato piemontese del Settecento. Come fa uno scienziato del Settecento ad essere attuale oggi? Beh, attuale oggi perché ha individuato tutta una serie di elementi che col tempo si sono dimenticati e che tornano di attualità adesso. Per esempio, aveva intuito il legame che esisteva tra elettricità e magnetismo, che poi si è confermato, ha però poi ipotizzato un legame tra elettricità, magnetismo e gravità, che è un discorso con le onde gravitazionali di estrema attualità. E' poi stato uno dei pionieri del rilancio scientifico della città di Torino nel Settecento, con lui e qualcun altro Torino è entrata nelle grandi capitali scientifiche dell'Europa, era molto amico di Beniamino Franklin, era considerato dai fisici del suo tempo tra i più grandi fisici dell'epoca e pertanto le cose che lui ha intuito sono ancora attuali oggi.